Il Movimento 5 Stelle le idee molto chiare sia su euro che su immigrazione. In campagna elettorale per l'europea abbiamo proposto sei punti per risolvere la questione economica del Paese senza i quali avremmo chiesto l'uscita dall'euro. Non sono stati realizzati e quindi oggi iniziamo a raccogliere le firme per uscire dall'euro. Sull'immigrazione la situazione è ancora più particolare. Noi abbiamo proposto proprio settimana scorsa sette punti ammesso all'interno Alfano per risolvere il problema dei flussi migratori. A differenza di altri gruppi politici che oggi parlano tanto di immigrazione ma hanno già governato come la Lega Nord che era nella maggioranza nel 2003 quando il governo Berlusconi firmò la Commissione di Dublino 2 quell'accordo che prevede che i migranti che arrivano in Italia vengono gestiti in Italia. A differenza di noi non solo parliamo ma proponiamo anche delle proposte. Le abbiamo già date al Ministro Alfano, se vorrà ascoltarle il Movimento 5 Stelle contribuirà in modo molto fattivo e attivo a risolvere i problemi dell'immigrazione in Italia.